Benvenuti ragazzi e bentornati sul mio canale, sono Simone e siamo qua Finalmente ritornati con un gioco horror chiamato Seek or Die, cercare o morire Ebbene si ragazzi, finalmente siamo ritornati con un gioco horror, mi raccomando Cuffie in testa, spegnete tutte le luci, come vedete ragazzi ho delle luci accese Perché se no non vedete la mia reazione, dunque ho dovuto lasciare due luci accese per forza Tutto il resto è chiuso Se il video vi piace, se il gioco vi piace, se volete altri video su giochi horror Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, cerchiamo di arrivare 5 like per portare la seconda parte Chiamata Die, perché noi faremo la prima parte chiamata Seek, cioè cercare E andiamo subito a scoprire questo primo capitolo, parte 1 di Seek or Die Ok, ok ragazzi, si parte così con il primo capitolo di Seek or Die Cioè partiamo con il primo capitolo chiamato Seek, cioè cercare Partiamo subito con questa casetta, abbandonata, sembra più un castello Qua cosa c'è? Ok Ok, la grafica ragazzi non è niente male Veramente molto 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 bella E, ok Il primo capitolo ragazzi si chiama Seek, cioè cercare, dunque dovremmo cercare qualcosa di inaspettato, qualcosa di misterioso Posso chinarmi? No, non posso chinarmi Ok, quella sembra, raga, una stanza delle torture E spero proprio di non andarci, sinceramente No, non posso fare niente, raga, dunque Cambiamo zona, cambiamo zona Comunque la grafica mi piace veramente tantissimo Quassù cosa c'è? Prima di andare lì, guardiamo cosa c'è quassù Intanto No, 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 il carillon no No, raga, oddio, cosa sono queste cose? Cos'è, raga? È senza volto No, raga, no Porta aperte così no Ma no, so già che devo morire Così si corre No, raga, no Cos'è? No, raga I brividi I brividi, guardate, raga No, non si vede, però, raga Mi sono venuti i brividi Oh, mio Dio, no, raga Mai guardarsi indietro, mai Eh, permesso Permesso, mi scuso per l'intrusione Ma io sono venuto qua Per cercare qualcosa Madonna, raga, ho paura No, 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 raga No, no, raga Non ce la posso fare, raga Non ce la posso fare C'è un altro armadietto Che ipotizzo ci sarà un'altra cosa Ah, madonna No, no, no No, 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 no Oddio, raga Cosa bisogna fare Cosa bisogna fare Madonnina mia, raga Madonna Oddio, raga Non ce la posso fare No, 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 no Con calma, un attimo Con calma Ok, ragazzi Rieccoci ritornati Capitolo 1 Ricominciamo Perché ogni volta che si muore Si ricomincia da zero Non so il perché sono morto Sinceramente Non capisco il perché Sicuramente dovremo guardare Queste telecamere qua Sono sicuro come non so cosa Mamma mia Che colpo che mi sono preso prima, raga Madonna Scrivetemi sotto nei commenti Se anche voi Vi siete spaventati Ma poi che cos'era quella cosa là Che cos'era? Non lo so, raga Non ne ho la più palida idea Ma credo che bisogna ritornare Dio mio C'ho già I brividi Dovremmo ritornare Madonna, raga Non ci riesco a giocare I giochi horror Ritornare Dove eramo prima Anche se la vedo molto dura Perché io ho Già paura No, no, no No, raga Non ci riesco Di dentro Col cavolo Che ci ritorno, raga Mi dispiace No, raga Non capisco Non capisco Cosa devo fare Proviamo ad andare giù Che ci sono altre scale Ma non No, raga No, basta No, non va via Raga Non va via Come sono morto Spiegatemelo Come cavolo Sono morto, raga Va bene Ricominciamo Let's go Come devo Entrare lì Scommetto tutto Quello che vuoi Che devo entrare lì Vai, vai Come se non ci fosse Un domani Come se non ci fosse Un domani Scappa, scappa Scappa, scappa Scappa, scappa, scappa Scappa Non c'è paura, raga Cosa devo fare? Ah Ditelo Queste qua sono le porte chiuse Qua le due videocamere Ok Ok Perché? Ma perché? Ve lo spieghi il perché? Era nascosto Dai Dai, raga Non riesco Cosa devo fare? Cosa devo cercare? Il perché devo cercarlo? Riproviamoci Su un curioso Madonnino No Prendilo, prendilo, prendilo Ah Scappa 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 Forrest Scappa 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 Vatte dietro Satana Scappa Scappa Amico Scappa 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 No No Non mi prenderai mai Non mi prenderai mai Satana Scappa dentro Vai, scappa dentro Dai, dai, dai Ti prego Ti prego Ti prego No C'è paura No, no Non ci posso credere, raga Pensavo una cosa Molto più facile Però mi sta veramente Piacendo questo gioco qua È diverso Strano Insolito È molto, molto strano Perché devo riuscire a capire Cosa devo cercare realmente Secondo me devo cercare Quelle bambole lì Quei carillon Carillon Come cazzo si chiamano Delle bambole Malefiche Di clown Secondo me devo cercare Quelle lì Per far sparire il mostro Non ne ho la più palida idea No No, 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 no Non va Non va Non va Non va, raga Basta Madonna, raga Basta Io ci rinuncio Perché Non ho capito bene Cosa devo fare Scrivetevi sotto nei commenti Se volete altri video Di Sicordai Perché mi farebbe molto piacere Riportarlo sul canale Anche se Mi fa molta paura Devo essere sincero Mi fa prendere quegli scatti Di ansia Di paura Di terrore Davvero Che non pensavo Che fosse così questo gioco E penso che sia veramente Un bell'horror Da giocare E da provare almeno una volta Nella vita Tanto è gratuito Lo trovate su Steam Sotto in descrizione Vi metterò anche il link Dove scaricare il gioco E niente ragazzi Questo gioco Mi piace Mi piace Mi fa prendere tanto spavento Ti fa veramente venire ansia Mentre i giochi Perché non riesci a capire subito Come funziona Poi dopo piano piano Andando avanti Si riesce a capire un po' Le meccaniche del gioco E mi piacerebbe portarlo in futuro Mi raccomando Cerchiamo di arrivare a 5 like Se volete vedere Altri video di questo gioco Sicordai Se volete vedere anche la parte 2 Più avanti Potremo anche farla Ma secondo me La parte 2 si sbloccherà Quando finirà E la parte 1 Almeno lo spero E niente ragazzi Mi raccomando Un bel pollicione su Cerchiamo di arrivare a 5 like Se volete altri video horror Come questo E niente ragazzi Adesso vado di là A un attimo A dimenticare questa esperienza Perché L'ho vista veramente brutta Ebbene si E niente ragazzi Ciao